Anche le scuole di Ventimiglia hanno deciso di partecipare al concorso Presepi Poveri presso l'Oratorio De Neri. Il presepo è stato realizzato all'interno di un laboratorio pomeridiano dall'Istituto IC1 Bianchieri di Ventimiglia, la scuola secondaria. È organizzato all'interno del laboratorio del mercoledì pomeriggio, noi abbiamo diversi laboratori, questo è il laboratorio di materiale di riciclo, il polistirolo che è stato recuperato direttamente dai ragazzi, quindi con materiale di risulta. Quando ci è stato proposto all'amministrazione comunale di partecipare al concorso dei Presepi Poveri, abbiamo immediatamente aderito accogliendo l'iniziativa con grande vigore e il professore Natale Pierrotta, che è responsabile del laboratorio, insieme a degli alunni della prima, della seconda e terza media, hanno realizzato questo prodotto finale, come potete vedere, tutto realizzato con le loro mani, polistirolo, legni raccolti, dipinto a mano direttamente dai ragazzi. Sono un'insegnante dell'Istituto Biancheri di Ventimiglia, mi occupo insieme al professore Pierrotta del laboratorio di polistirolo, un laboratorio finalizzato a educare i ragazzi al riciclo dei materiali più poveri e più semplici, come quello appunto del polistirolo. Insieme a questi ragazzi, che è costituita da una classe mista, abbiamo intrapreso un percorso finalizzato alla realizzazione di questo presepe. Abbiamo quindi valorizzato gli aspetti legati proprio alla nostra cultura, abbiamo appunto coinvolto i ragazzi non soltanto nella reperibilità del materiale di base che abbiamo utilizzato, ma anche proprio nella pittura. Fino al 6 gennaio, infatti, si concluderà questo concorso dei presepri poveri, che abbiamo aperto in occasione della festa anche organizzata dalle ragazze di Vilma il 10 dicembre, e è un'ottima iniziativa. Anche siamo qui proprio perché il professor Teodoro Panetta ha portato all'Oratorio dei Neri questo magnifico presepe realizzato interamente dalle scuole. Tra l'altro, anche ho notato che un'altra scuola, la scuola di Santa Marta, ha partecipato, quindi questo per me è motivo di grandissimo orgoglio, in quanto assessore alla cultura, perché vengono messe insieme una serie di elementi, sia di tradizione, ma soprattutto di cultura, di comunità. Quindi un senso di comunità sempre più unito e la volontà da parte anche dei più piccini di partecipare e sentirsi parte della città.